Sono Sara Colonnelli, sono una scrittrice e sceneggiatrice e mi sto avvicinando anche al cinema da poco, infatti a breve uscirò con un promo per un cortometraggio che è un thriller psicologico. Sono contentissima di questo premio perché credo molto nella meritocrazia, quindi i giovani che riescono ad arrivare dopo una bella gavetta. Vincenzo Crocitti è stato uno di questi e quindi è proprio il caso di dire che sono contentissima perché è la situazione giusta e spero sia anche un incipit per fare sempre di più e quindi di arrivare dove mi sono prefissa di arrivare.